Io voglio parlare a un padre di famiglia, ascoltami. La seconda cosa è sulle banche. Le banche sono degli animali immorali, sono di barracuda. Allora, no, la colpa non è delle banche, la colpa è del Parlamento. Allora, la proprietà della moneta, come ho detto, è del monopolista della moneta, l'emissore della moneta, è sempre dello Stato la proprietà della moneta. Grazie.